Mi chiamo Quincy Sharp, lo spirito di Amadeus Arkham. Sei stato bravo a decifrare la mia storia e spero che ti abbia aiutato ad andare avanti. Spero che grazie ai miei scritti sarai in grado di fare ciò che è giusto, te ne prego. Ti supplico di continuare il mio lavoro, la città ha bisogno di un salvatore, ti prego, continua il mio lavoro. Grazie a tutti.